Se hai compreso bene come si riesce a individuare un periodo e come all'interno di un periodo si riconoscono le proposizioni, sei pronto per fare il secondo passo, cioè per capire quella che è la struttura del periodo. Cosa significa struttura? Struttura significa che le proposizioni che ci sono all'interno del periodo non sono messe a caso, l'avevamo visto anche nella lezione precedente, ma seguono un ordine ben preciso che è dettato dalla logica. Se non fossero unite con una logica il discorso non si capirebbe, l'argomento non si capirebbe. Quindi oggi impariamo a riconoscere la struttura all'interno di un periodo. Partiamo con un esempio per semplificare le cose. Immagina una società sportiva. All'interno della società sportiva ci sono diverse persone che occupano ruoli diversi, c'è un allenatore, ci sono dei giocatori titolari e poi ci sono le cosiddette riserve. Queste persone non hanno tutte la stessa funzione e anche la stessa importanza. Sono ordinate in un modo logico. C'è l'allenatore al primo posto, poi ci sono i giocatori titolari e poi ci sono le riserve. Cioè c'è un ordine che va rispettato. Perché se questo ordine non viene rispettato, la squadra gioca male e soprattutto la partita viene persa. Quindi noi immaginiamo una struttura che abbia una logica. Il nostro periodo e le nostre proposizioni funzionano un po' allo stesso modo. Quindi oggi cerchiamo di vedere insieme come riconoscere questi rapporti. Partiamo con un testo semplice. Il lupo seguì Capuccetto Rosso che si era inoltrata nel bosco per andare dalla nonna a portarla il pranzo. Abbiamo fatto il primo passaggio, cioè leggere il nostro periodo che riconosciamo perché inizia con la lettera maiuscola e termina qui dove c'è il punto. Lo leggiamo attentamente e poi andiamo alla ricerca dei predicati per poter distinguere le proposizioni all'interno di questo periodo. Allora il primo predicato è qua, seguì, poi c'è il secondo, si era inoltrata, andare, portarle. Uno, due, tre, quattro predicati. Allora sappiamo che se ci sono quattro predicati ci saranno quattro proposizioni. Abbiamo anche già cominciato un po' a capire come faccio a distinguere una proposizione dall'altra. Devo basarmi sul significato prima di tutto, sulla punteggiatura e su quelle paroline che possono essere pronomi, preposizioni che mi aiutano a capire dove comincia una nuova frase. Il lupo seguì cappuccetto rosso. E qui metto la mia prima sbarrettina che mi dice questa è una proposizione. la proposizione creata intorno al predicato seguire. Qui ho un pronome relativo. Eccolo qua. Il quale, quindi cappuccetto rosso, il quale si era inoltrata nel bosco. Qui ho una preposizione che mi spiega, è entrata nel bosco a fare che cosa? Per andare dalla nonna. E poi qui ho un'altra preposizione che mi indica l'inizio di quest'altra proposizione. E qui il mio periodo termina. Quindi quattro predicati, quattro proposizioni. Ok. Ora che abbiamo suddiviso il nostro periodo in proposizioni, dobbiamo metterle in ordine, cioè dobbiamo capire qual è il posto occupato da ciascuna proposizione. Ecco qua. Queste sono le quattro proposizioni che abbiamo individuato prima. All'interno di questo gruppo ce n'è una che è più importante delle altre, che chiameremo proposizione principale. Cosa significa? Significa che è un po' l'allenatore della squadra. Cioè è quella proposizione dalla quale poi dipendono tutte le altre. Come faccio a riconoscere la proposizione principale? Beh, intanto è una proposizione che non ha bisogno di nulla e di nessuno per potersi reggere sulle proprie gambe. E poi è quella proposizione senza la quale la frase non avrebbe significato. Allora, proviamo a guardare. Il lupo seguì Capuccetto Rosso, che si era inoltrata nel bosco per andare dalla nonna a portarle il pranzo. Prova a immaginare un periodo formato soltanto da una di queste proposizioni. Ti ricordi che la volta scorsa abbiamo detto che il periodo può essere anche formato da una proposizione sola. Proviamo a immaginare che una di queste proposizioni componga un unico periodo. Prendiamone una, questa. Riesci a immaginare una frase che suona così? Che si era inoltrata nel bosco, punto. Non ha molto senso. D'altra parte è una frase che comincia con un pronome relativo e noi sappiamo che il pronome relativo deve essere sempre accanto al nome a cui si riferisce. Ma io qui non ho accanto proprio nessuno. Quindi questa non può essere la principale, ma neanche questa. Per andare dalla nonna, punto. Vedi che rimarresti spiazzato. Per andare dalla nonna, cosa? No, non va bene. Allora, noi avevamo già visto che tutte queste proposizioni iniziavano con delle paroline che servivano per tenerle agganciate a un'altra frase. Allora non sono proposizioni che possono reggersi da sole se hanno bisogno di essere agganciate a qualcun altro. L'unica è questa. il lupo seguì cappuccetto rosso. Io qua tranquillamente potrei mettere un punto e far terminare la mia frase qui. È una frase chiara, non ha bisogno di altro. Quindi questa proposizione è la proposizione principale, è la proposizione più importante. Togliamo un altro punto. Ok. Tutte le altre dipendono da questa proposizione. Tant'è vero che se io queste le tolgo, la mia frase si capisce lo stesso. Il lupo seguì cappuccetto rosso. Se invece io togliessi questa, ecco che queste qui insieme non formerebbero una frase perché non si capirebbe. Allora, la proposizione che ha queste caratteristiche si chiama proposizione principale. Io la indico con una bella P maiuscola e normalmente si sottolinea questa proposizione all'interno del periodo. Le altre in che rapporto stanno con questa proposizione principale. Non sono sullo stesso piano. Le devo mettere a un livello sotto. Cappuccetto rosso che si era inoltrata nel bosco. Partiamo da qua e poi le mettiamo in ordine. si era inoltrata nel bosco per andare dalla nonna. Andava dalla nonna a fare che? A portarle il pranzo. Allora, questo ordine non è un ordine a caso. Io non le potrei mettere in un altro modo. Proviamo scambiare. Guarda cosa succede. Se io le mettessi così, verrebbe. Il lupo seguì capuccetto rosso per andare dalla nonna che si era inoltrata nel bosco a portarle il pranzo. Allora, intanto non ha senso questa frase, ma poi ad esempio se io metto questo pronome relativo vicino a nonna, sembra che sia la nonna che sia inoltrata nel bosco. Quindi noi dobbiamo seguire assolutamente l'ordine logico della frase. Allora, qui abbiamo la nostra proposizione principale. Che regge, infatti si chiamerà reggente le altre. Qual è allora il rapporto tra queste diverse proposizioni? È un rapporto di subordinazione. Cosa significa subordinazione? Significa che io qui ho una proposizione che è la più importante di tutti, che è la proposizione principale. Tutte le altre sono un gradino sotto, sono in un rapporto subordinato. Partiamo sempre dalle parole. Sub significa sotto, ordinazione significa mettere in ordine. Allora, vedi che queste proposizioni sono a un livello sotto una sotto l'altra. È un po' come abbiamo visto prima che in alto c'è l'allenatore che prende le decisioni, poi ci sono i giocatori titolari che seguono quello che dice l'allenatore e poi sotto ancora ci sono i giocatori che stanno in panchina e che vengono chiamati solo se è necessario. Quindi, il rapporto di subordinazione significa che ogni proposizione occupa un livello diverso dalle altre, non solo sullo stesso piano. facciamo un altro esempio. Se io invece scrivessi il lupo seguì cappuccetto rosso e pensò che era stata un'ottima idea. Facciamo il nostro lavoro solito, andiamo a cercare i verbi, ecco qua, seguì, pensò, era stata. Il lupo seguì cappuccetto rosso. Questa è la mia prima proposizione. Vedi che qui c'è una congiunzione. E pensò. Che cosa ha pensato? Che era stata un'ottima idea. E qui finisce il mio periodo. tre predicati, tre proposizioni. Andiamo a vedere. Adesso dobbiamo metterle in ordine. Per prima cosa dobbiamo trovare la proposizione principale. Qui noi abbiamo già visto che c'è un pronome relativo. Ormai abbiamo imparato. Che queste paroline sono dei campanelli d'allarme. E sappiamo che non potrà essere mai una proposizione principale. Quindi questa sappiamo che non è una proposizione principale. Il lupo seguì cappuccetto rosso. Punto. Posso farla finire qui la frase? Beh sì, sì, è una frase che non ha bisogno di altro. Penso. Ma anche questa è una frase che non ha bisogno di altro. Il lupo, penso. Punto. Allora, qui entra un elemento nuovo. Prima abbiamo visto che le proposizioni possono avere un rapporto di subordinazione. Cioè, ce n'è una più importante, poi una sotto, una sotto, una sotto e via andare. Ma io posso anche avere un rapporto di parità. Cosa vuol dire di parità? Vuol dire che queste due proposizioni sono un po' sullo stesso piano, sullo stesso livello. Il lupo seguì cappuccetto rosso, il lupo pensò. Non sono una sotto l'altra, come abbiamo visto prima. Mentre questa sicuramente dipende da questa qua. Che cosa ha pensato che era stata un'ottima idea? Allora, questa qui è sicuramente subordinata. Pensò che era stata. Allora, io capisco che è una subordinata perché qui ho il mio pronome relativo. Ma queste due hanno, abbiamo detto, un rapporto di parità. Allora, io non parlerò più di subordinazione, perché vedi che l'ho messa sullo stesso livello, ma parlerò di coordinazione. Facciamo come abbiamo fatto la volta scorsa. Partiamo dalle parole. Abbiamo sempre ordinazione che ci sta dicendo che stiamo parlando di mettere in ordine le cose. Però questo co all'inizio significa insieme. Coordinare, infatti, cosa significa? significa fare in modo che un certo numero di azioni vadano insieme e funzionino bene. Se io devo coordinare un gruppo di persone, significa che devo fare in modo che il loro lavoro funzioni al meglio, che non si tralcino una con l'altra, che non si diano fastidio. Coordinare, quindi, significa fare in modo che le mie proposizioni vadano d'accordo, siano sullo stesso piano. Allora, io qua scriverò che questa è la proposizione principale e questa è la sua coordinata, perché l'abbiamo messa sullo stesso livello, sullo stesso piano. Anche qui ho dei campanellini d'allarme, eh? Ad esempio, questa è. Questa è una congiunzione. Qui ti devo dare una brutta notizia, che però è molto importante. Per riconoscere le coordinate, io devo prima riconoscere le congiunzioni che hanno proprio questo scopo. Se vai a rivedere sul libro di grammatica che hai utilizzato in prima, troverai sicuramente un capitolo che ti spiega cosa sono le congiunzioni coordinanti. Si chiamano così proprio perché hanno la funzione, lo scopo di coordinare, cioè di legare insieme due proposizioni dello stesso tipo, sullo stesso livello. E allora c'è la E, c'è il MA, O, tuttavia, N, dunque, ce ne sono tante. E la brutta notizia è che un pochino te le devi studiare, nel senso che bisogna conoscerle, altrimenti poi non si riconoscono le proposizioni coordinate e l'analisi del periodo viene sbagliata. Qui coordinazione abbiamo detto quando le proposizioni sono sullo stesso livello, subordinazioni quando invece sono a un livello inferiore, sono una sotto l'altra. Facciamo un altro esempio. Io qua farei, come ormai abbiamo imparato, così. Ferma il video e poi sul tuo quaderno trova intanto a individuare i periodi, poi a individuare all'interno dei periodi le proposizioni e poi a cominciare a capire come sono strutturati questi periodi e quindi se ci sono dei rapporti di subordinazione oppure di coordinazione. Dopo potrai riprendere il video e facciamo la correzione insieme. eccoci qua. Partiamo dai periodi. Andiamo a cercare i punti. Il lupo arrivò per primo alla casa della nonna e la divorò in un sol boccone, punto. Quindi sicuramente io qua ho un periodo. Poi pensò che si sarebbe travestito, si sarebbe messo a letto, avrebbe aspettato capuccetto che sarebbe arrivata dopo poco, punto. E qui ho un altro periodo. Allora adesso passiamo all'interno dei periodi. Andiamo alla caccia dei verbi. Allora io qui ho arrivò, divorò. Quindi in questo primo periodo avrò sicuramente due proposizioni. Dove le divido? Beh, ecco qua la parolina magica, c'è una E. Quindi metto la mia sbarrettina qua. Il lupo arrivò per primo a casa della nonna ed è un'azione, una proposizione. E poi cosa ha fatto? E la divorò in un sol boccone ed è un'altra proposizione. Passiamo al periodo sotto. Allora qui abbiamo pensò, si sarebbe travestito, si sarebbe messo, avrebbe aspettato, sarebbe arrivato. Ce ne sono tanti di predicati, eh? Uno, due, tre, quattro, cinque. Quindi devo individuare cinque proposizioni diverse. Poi pensò. Questa è la prima. Ecco che qua vedo un che. È una congiunzione questa. Quindi significa che inizia un'altra proposizione. Cosa ha pensato il lupo? Che si sarebbe travestito. Ma ha pensato solo quello, no? Si sarebbe messo a letto. Qui il che non è scritto, però è come se fosse sottointeso. Si sarebbe messo a letto. Bene. Poi qui ho un'altra congiunzione. E avrebbe aspettato cappuccetto. Benissimo. Questo invece è un pronome relativo. cappuccetto il quale sarebbe arrivato dopo poco. Quindi vedi che abbiamo riconosciuto le nostre paroline magiche, quelle che ci danno le indicazioni. Ecco, devi stare molto attento al che. Perché in questo caso il che è una congiunzione. Invece in questo caso il che è un pronome relativo. C'è una bella differenza. Ti ricordi come si fa a capire la differenza? Allora, la differenza è che se io posso sostituire questa parolina con il quale, la quale, eccetera, allora è un pronome relativo. Se non posso farlo, allora è semplicemente una congiunzione. Anche questo è molto importante e lo vedremo più avanti. Ok, abbiamo trovato periodi e proposizioni. Adesso si tratta di capire i rapporti che ci sono tra di loro. Eccoci qua. Il lupo arrivò per primo alla casa della nonna. È una proposizione che può anche stare da sola. Non ha bisogno di altro e quindi già ho capito che questa sarà una proposizione principale. Quindi me la metto qua in alto. E la divorò in un sol boccone. Il lupo la divorò in un sol boccone. Ma anche questa è una proposizione che può stare tranquillamente da sola. Dipende da questa? No. Infatti, che cosa vedo io qua? Vedo questa E, che è una congiunzione coordinante. Allora, queste due sono sullo stesso piano. Allora, questa sarà la proposizione principale e questa sarà la sua coordinata. Veniamo all'altro periodo. Poi pensò. Allora, questa non può stare da sola perché abbiamo un che all'inizio e quindi sicuramente ha bisogno di qualcun altro. E di preciso, lo puoi capire subito, guarda. Pensò che si sarebbe travestito. Per forza. Queste sono per forza una che dipende dall'altra. Quindi, questa può stare da sola. È la nostra principale. Da questa frase, da questa proposizione principale, dipende questa qui. Pensò che si sarebbe travestito. Ma attenzione, è l'unico pensiero che ha fatto il lupo? No. Pensò che si sarebbe messo a letto. Ma pensò anche che avrebbe aspettato questo cappuccetto. Allora, devo sistemarla così. Qua metto la mia principale. E qui sotto metto quelle che dipendono direttamente da lei e che sono sullo stesso piano. Allora, facciamo un po' di spazio. Ok. Come puoi vedere, queste tre proposizioni dipendono tutte da questa. Pensò. Il lupo ha pensato. Che cosa ha pensato? Ha pensato che si sarebbe travestito. Ha pensato che si sarebbe messo a letto. Ha pensato che avrebbe aspettato cappuccetto. Allora, queste tre sono a un livello sotto. Sono subordinate rispetto alla principale. Perché hanno bisogno della principale. La principale è quella che regge tutte e tre queste proposizioni. Ma tra di loro, queste tre, sono tutte sullo stesso piano. Perché stanno indicando tutte la stessa funzione. Avrebbe aspettato cappuccetto il quale sarebbe arrivato dopo poco. Questa è un'altra cosa. Questa qui non dipende da pensò che sarebbe arrivato. No. Il quale. Quindi questa è legata a cappuccetto. Allora, prendiamo nota di quello che abbiamo detto. Penso è la nostra principale. Questa principale è anche la reggente di tutte e tre. Queste qua. che sono tutte sullo stesso piano. E sono subordinate alla principale. Quindi principale. questa è subordinata alla principale. Perché dipende dalla principale. Ma questa qui è coordinata alla subordinata. qui invece abbiamo un altro pronome relativo. E quindi questa diventa la reggente di questa qua, che è un'altra subordinata. è più chiaro? Qui abbiamo visto che è la principale sullo stesso livello di questa, che quindi sarà coordinata alla principale. Da questo esempio, tra l'altro, impariamo anche un'altra cosa. Che le coordinate possono essere sia tra proposizioni principali, come questo caso, ma possono anche essere tra proposizioni subordinate. Ultima cosa. Come faccio a distinguere questa subordinata da questa? Allora, prima abbiamo parlato di livelli. I livelli si numerano. Primo, secondo, terzo. Si numerano usando i gradi. Quindi si dice che questa è una subordinata di primo grado. E si scrive proprio così. Uno e poi il simbolo del grado. Perché primo grado? Perché è subito sotto la principale. Quindi si comincia a numerare sempre partendo dalla principale. Ecco perché è importante capire subito qual è la principale. Perché poi a cascata praticamente da lì dipendono tutte le altre. Questa qui, invece, non dipende dalla principale. Dipende da questo gruppo di subordinate che sono tutte, però, abbiamo detto, di primo grado. E allora, siccome questo è un gradino sotto, noi diremo che è una subordinata di secondo grado. Se poi ce ne fossero delle altre a livelli inferiori, andremo avanti. Terzo grado, quarto grado. Facciamo un altro esercizio? Dai, fallo tu da solo utilizzando il sistema di prima. Fatto? Fatto tutto giusto? Vediamo di correggere insieme. La bimba arrivò alla casetta della nonna, bussò alle porte e poi entrò. Qui c'è un punto e quindi il mio primo periodo è finito. La nonna era a letto e quando la vide la salutò con un sorriso. E questo è la fine di un altro periodo. Cappuccetto appoggiò il cestino sul tavolo, che era in un angolo della stanza, illuminata da una piccola finestra. Ho tre periodi. Adesso vado alla ricerca dei predicati. Eccoli qua. Arrivò, bussò, entrò. Quindi, tre predicati, tre proposizioni. Cerchiamo di capire. La bimba arrivò alla casetta della nonna. Ok? È un'azione. C'è una virgola. Posso interrompere. Bussò alla porta. Ha fatto un'altra cosa. Qui ho una congiunzione, quindi sicuramente ho la terza proposizione. La nonna era a letto. La vide. La salutò. E qui dobbiamo stare molto, molto attenti. Non ho messo questa frase per caso, ma proprio per farti riflettere su una cosa nuova. Visto che sei arrivato fino a qui, dobbiamo proseguire. La nonna era a letto. E fino qua. Ormai, anzi, direi che è diventato quasi facile. Se io adesso proseguissi velocemente, badando soltanto ai segni che ho fatto dove ci sono i predicati, sbaglierei sicuramente. Perché metterei la sbarrettina qua. Dov'è l'errore? Qui è giusto, perché questa, la salutò con un sorriso, è sicuramente una proposizione. Ma manca un pezzo. Attenzione! Sarebbe un errore gravissimo. Prova a guardare qui la virgola. Questa frasettina è fra due virgole. Allora, com'è possibile che questa parolina faccia parte di questa proposizione? No, questa è fa parte di questa proposizione. La nonna era a letto e la salutò con un sorriso quando la vide. Quindi, cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che le frasi non sono sempre una di seguito all'altra, ma possono essere anche una dentro l'altra. E allora io devo capire bene il significato di quello che sto leggendo. La nonna era a letto e, quando la vide, la salutò con un sorriso. Vedi che queste parole sono lette, adesso io ho un po' enfatizzato, però sono lette con un tono diverso? Certo, perché in realtà interrompono questa proposizione. Andiamo avanti. Appoggiò, era, illuminata. Anche questo periodo ha una notizia in più che dovrai imparare a conoscere. Allora, Capuccetto appoggiò il cestino sul tavolo. So che la proposizione si interrompe qua, perché qui ho il mio pronome relativo. Tavolo, il quale era in un angolo della stanza. Ok. Illuminata, in questo caso, io lo devo trattare come un predicato, perché in realtà è un predicato. È come se ci fosse scritto che era illuminata da una piccola finestra. Questo che era non l'abbiamo scritto perché la frase diventava proprio brutta, quindi a volte si sottointendono alcune parole per non continuare a ripeterle. Però attenzione, perché in questo caso illuminata è un predicato. Bene, adesso andiamo a vedere qual è il rapporto che c'è fra queste proposizioni. Partiamo dal primo periodo. La mimma arrivò alla casetta della nonna. E questa è una frase che tutto sommato potrebbe anche già stare da sola, qui bella, tranquilla, e quindi è sicuramente la nostra principale. Ma anche bussò alla porta. Anche poi entrò. Allora, queste tre non dipendono una dall'altra, ma sono tutte sullo stesso piano. Sono tre azioni che vengono fatte e sono tre azioni indipendenti. Quindi, abbiamo imparato che in questo caso noi avremmo la principale, questa è sullo stesso livello e quindi è una coordinata alla principale, questo è allo stesso livello e la coordinata alla coordinata della principale. Quindi sono due coordinate, basta dire così. Ci siamo? Ok. Passiamo al secondo periodo. La nonna era a letto. E posso chiuderla qua. Principale. Poi ti ricordi che abbiamo dovuto separare, la frase era così, la nonna era a letto e quando la vide la salutò con un sorriso, ma noi abbiamo detto che queste parole non potevano essere separate. ed è importante perché guarda cosa succede. Succede che questa è la principale e la salutò con un sorriso è la sua coordinata, questa invece è una subordinata di primo grado. La salutò con un sorriso quando la vide. Vedi che dipende da questa qua. Quindi questa è la nostra principale. Sullo stesso livello c'è quest'altra azione uguale. La nonna era a letto e la salutò con un sorriso. Quindi la chiamerò coordinata alla principale. Questa invece dipende da questa qui. Allora, la coordinata è la reggente cioè regge questa che sarà una subordinata perché non è allo stesso livello delle altre, ma ha bisogno di questa qua per poter avere un significato. siccome questa qui è allo stesso livello della principale, allora questa sarà una subordinata di primo grado. veniamo all'ultima. Capucetto appoggiò il cestino sul tavolo. Bene, è la nostra principale perché è chiara, può stare da sola e va benissimo. Queste due sapevamo già che non potevano stare da sole. Perché? Perché qui c'è un pronome relativo e qui abbiamo detto che il pronome relativo non è stato scritto ma è sottointeso. Allora, vediamo da cosa dipendono. sul tavolo, sul tavolo, il quale era in un angolo della stanza. Quindi, questa principale regge questa che è a un livello sotto e che quindi sarà una subordinata. la stanza che era illuminata da una piccola finestra. Vedi, queste due devono stare per forza una sotto l'altra. Vedi che se io cambio l'ordine non funziona. Sul tavolo, illuminata da una piccola finestra. Che era Capucetto che era illuminata dalla finestra? La finestra era nell'angolo della stanza? No. Vedi che ci vuole un ordine. L'ordine deve essere quello giusto e lo capiamo dalle parole, proprio da quelle paroline piccole di cui parlavamo prima. Allora, questa sarà la nostra principale. Questa qui, che è collegata direttamente, sarà subordinata di primo grado perché dipende dalla principale. Questa a sua volta regge questa qua, che quindi sarà una subordinata di secondo grado. bisogna prendere un po' la mano, bisogna fare tanto esercizio, cominciando con i periodi più semplici e poi bisogna ragionare, 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 ragionare. Allora, cosa abbiamo imparato in questa lezione? Abbiamo imparato a riconoscere la struttura di un periodo, cioè le proposizioni non sono buttate lì a caso, ma devono seguire un ordine principale. Abbiamo imparato a individuare la proposizione principale, perché se non si capisce qual è quella, poi diventa difficile. E poi a individuare che tipo di rapporto c'è tra le diverse proposizioni, quindi se sono coordinate o se sono subordinate. Ok, buon lavoro, ci vediamo alla prossima.